in Costituzione. All'attacco è 5 Stelle, altro che spirito costituente, commenta Di Maio, il motivo per cui la riforma passerà è un altro. Se la legislatura non dura fino al 2018, i parlamentari non avranno la pensione. Noi del Movimento 5 Stelle rinunciamo ai privilegi, gli altri no. Ed è per questo che voteranno qualunque riforma, anche una riforma che dà l'immunità parlamentare a consiglieri regionali e sindaci, ovvero quella che Renzi sta mettendo in piedi e che non abolisce il Senato.